ok ci siamo oddio allora cristian saluta ciao a tutti io sono Boskri96 dobbiamo costruire questa torre praticamente con l'aiuto di Boskri eccomi qua serve a tutti ok andiamo dai questa è casa mia un macello con la lava bisogna stare attenti eh ecco tutto sto creeper ci hanno distrutto qua dai lo ripariamo dopo andiamo andiamo dai scusate per la tosse andiamo vediamo se che succede ah sono caduto invece no allora allora vediamo si iniziamo a costruire qua la facciamo alta così riusciamo a vedere proprio tutto dopo sopra vediamo di creare un tetto cioè una copertura allora iniziamo iniziamo ok perfetto c'è un bel panorama qui spero di non cadere eh sono fatto quello ah ecco eh no aspetta mi sono salvato dalle scale mi sono salvato si aspetta vediamo se riesco vediamo ok no ancora no ok perfetto dove stai ah sei caduto sei caduto sei caduto ormai mi ha salvato le scale eh eh allora purtroppo io ho bisogno tu puoi creare le scale lo so prendo un pochino di terra così salgo per continuare eh si si ok perfetto ahia ah vi invito a mettere un mi piace a questo video commentare condividete grazie allora io mi sono bloccato qui ah io mi sono bloccato dentro ah ma aspetta no è mo che è successo che è successo su questo ok 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 perfetto ok io sono sopra 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 sono riuscito a salire vediamo e dopo come fai a scendere alex facciamo superman in versione minecraft ah ci mi sto sentendo c'è l'acqua ok io ho finito i blocchi di lapislazoli ok qua siamo saliti andai ok ah stai salendo eh ah no stai raccogliendo la terra no sono sceso si perchè ho finito i blocchi di lapislazoli no sto cadendo ahia wow sei molto male si aspetta la vado a raccogliere io allora eh eh no 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 qui c'è il suo ok guarda l'acqua guarda l'acqua qu'è l'acqua qui sono le tue patate qua adesso ma io no ancora no no c***** allora aspetta che ritorna lo scaguaccio appena io dai ok aspetta dove stanno le cose qua dove tieni questa è la tua il tuo osso la tua porta la tua mappa ah no aspetta no due mappe due mappe mi hai dato quello ho detto sbagliato si adesso la e la crisi lazuli io non so la crisi lazuli adesso aspetta la porta un attimo aspetta un attimo che sto sbagliando tieni la mappa è tua e ho perso le altre cose adesso adesso la crisi lazuli come cosa si fa e allora facciamo una cosa andiamo in creativa e continuiamo lì tanto in modo taglio il video ok ok dai ed eccoci qui nella seconda parte del video perché la prima parte meta è andata persa perché laggava purtroppo siamo sempre con bosch ri saluta sa tutti mettete un bel like condividete mettete mi piace ecco allora dai oggi a me è venuta l'idea di fare la ferrovia facciamo la ferrovia per allora tutto così ok ma dopo mettiamo i vagoni e va giusto scusa facciamola solo sulla parte destra questa qua mettila qui ah giusto è vero che stai se no puoi un macello passare a piedi giusto 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 no ho sbagliato questo no aspetta di nuovo e come ah il pezzo questo 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 ok dai ti aiuto io allora a farla anche questo 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 e binari potenziati sarebbero questo allora devi prendere i binari potenziati e e binari normali e perché due non ho capito perché perché questo è quello normale e questo è quello che ti fa andare veloce ah non si può mettere solo potenziati no tutti e due metti ok ok uno normale e uno potenziato ok ok io metto io metto quelli potenziati e tu metti e io metto quelli normali ok poi mettiamo le torce che fanno accendere qua ok qua 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 qui vedo mettere i binari normali qua 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 qui perfetto qui 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 per ora sta registrando tutto apposto ok bene benissimo devi mettere metti la curva qui ora la curva metti due volte uno qua e uno qua poi qua stacchi e il maniera curva qua devo mettere questo sì ok no perché al contrario ma hai sbagliato qualcosa perché si aspetta ok tranquillo tutto si risolve qua qui 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 ok perfetto ah qua due ne hai messi eh ok dove ma perché non la mette storto non ti preoccupare metti lo storto non ti preoccupare per poi quando attacco il binario normale sei da dritto non ti preoccupare ok ok dovrei 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 essere preciso ok ora metti qua dai farlo tu qui e qui ok metti perfetto no ho sbagliato ah no ho visto giusto ok ok perfetto ok no qua aspetta che qua ho sbagliato ok no scusami ok adesso come funziona devi mettere il culo adesso metti quello potenziato dove l'ultimo potenziato a qui ok adesso ci metto questi che fa che è acceso se non è acceso non funziona eh lo so ok non è che siamo creativi se no cosa dovrà rompevo le scatole ok guardate la casa come illuminata spettacolare oh figo troppo figo con quelle fiamme sopra lì ok ok qua mancano eh no 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 tutto a posto qua stanno due binari uguali ok ok questo uccide adesso prendi un mini card cosa non ho capito che devo prendere devi prendere un carrello da miniera ah ok aspetta che lo cambio allora il carrello eh carrello da miniera non di cassa o comunque non di parla ok dove lo metto nel binario normale poi ci sali eh aspetta con eh no che è successo con L2 perchè va giù no devi mettere in binario normale sennò ti fa andare indietro questo ah ok vai mettere in binario normale ci sali con L2 e perchè? ah cavalca x versa che è successo? aspetta vai vai rimettila rimettila e vai dentro poi quella la metto in su madonna va scappando bellissimo non lo sapevo ok no è caduto ma non c'è un blocco eccomi qua non c'è un blocco che tipo può stoppare questa cosa mettiamo tipo una specie di non lo so allora se mettiamo un pezzo di se mettiamo se tipo tolgo un pezzo di binario e metto questo lo blocca è giusto bravo bravo poi mettiamo delle torce se c'è un tubo si infatti puoi andare dove vuoi beh è venuto a vine ok no aspetta facendo una cosa facendo facciamo così guarda aspetta leviti mettiamo mettiamo che cosa così qui mettiamo un blocco per fare cosa allora così così ah che puoi ah si 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 ferma lì poi ti muovi eh si e vai è bella perfetto allora non è che mi ha spinto indietro che cosa lo zombie adesso adesso è morto è bellissimo si che è come cosa perché vai indietro io tu hai lo zombie beh ascolta io davanti vai esci ok io vado farò farò via allora qui si hanno l'idea di concludere perché il video è diventato molto grande quindi saluta se vuoi ok noi ci vediamo al prossimo video ragazzi mettete del pollice in su commentate non dividete e noi ci vediamo al prossimo video e tanto mi butto indietro io mi sto facendo il bagno qui ciao ragazzi ci vediamo alla prossima